Roma, conosciuta come la città eterna, c'è sempre un'epoca storica, una veduta, un negozio, un'adilizia culinaria che ti aspettano tra capolavori come il Colosseo, dove un tempo lottavano i gladiatori, e il Foro Romano. Lo stupore non può lontanamente descrivere come ci si sente quando si respirano millenni di autentica storia. Il Pantheon è una delle prime visite da mettere in cima alla lista. Molti vengono in pellegrinaggio a Roma per vedere il Vaticano, la Basilica di San Pietro e le oltre 900 chiese dentro e fuori la città. Ed ecco le splendide fontane. Roma è un museo a cielo aperto, a cominciare dal Museo Fondazione Roma. I musei Capitolini sono un'altra fermata d'obbligo. Tra visite e panorami, allacciatevi le scarpe sui gradini di Piazza di Spagna. L'altare della Patria, o Vittoriano, è imperdibile. Dopo aver nutrito la mente e lo spirito con la storia, la cultura e l'arte della capitale, rifocillatevi con alcuni fra i piatti migliori che l'Europa possa offrire. Intere sfoglie di pasta fresca vengono distese ogni giorno in trattorie e osterie e ogni sugo ha una sua storia e ricetta. Ogni cono gelato amalgamato per essere la combinazione perfetta di dolce e cremoso. Un viaggio a Roma non sarebbe completo senza gli acquisti tra le strade storiche del centro. La moda è uno dei maggiori settori del Made in Italy e avrete di sicuro sentito parlare delle vetrine sulle vie principali dove i grandi marchi hanno decine di negozi. Ma oltre ai grandi nomi della moda conosciuti in tutto il mondo, vi sono gli artigiani locali con le loro pelletterie, le borse, le pellicce, gli abiti su misura, gli orologi, le scarpe e molto altro ancora. Ogni prodotto porta il marchio di autenticità Made in Italy e rivendica con orgoglio la testazione di qualità.